Arriva il portafoglio digitale, si comincia da patente, tessera sanitaria e carta europea sulla disabilità. Un riconoscimento virtuale che sarà sempre più diffuso. Dopo una prima fase sperimentale, mercoledì 23 ottobre, i tre attestati di riconoscimento potranno essere caricati e validati sullo smartphone attraverso l'applicazione Io. Si partirà con 50.000 persone, ma dal 5 dicembre questo sistema sarà operativo per tutti. Una piccola rivoluzione nella gestione della propria identità online, i documenti essenziali inseriti nel cellulare senza l'obbligo di doverli trasportare nei portafogli. La Commissione europea vuole la transizione digitale entro il 2026 per sdellire l'eccesso di burocrazia e abbattere i confini tra i paesi. Un modo per identificare i cittadini con standard comuni e permettere di dialogare anche fuori dai confini nazionali. i2Wallet sarà disponibile all'interno dell'app Io, la stessa che veniva usata per il Green Pass durante il Covid. Da subito i documenti virtuali saranno validi, ad esempio da esibire ai carabinieri o per prenotare una visita medica. Ma la vera svolta ci sarà quando i documenti digitali saranno impiegati anche in contesti ibridi per dialogare con Bancomat o colonnine di ricarica oppure online. Molto dipenderà, ed è la vera sfida, dalla capacità delle varie amministrazioni di integrare i propri sistemi con iWallet.